Ben ritrovati amici telespettatori. La notizia di cui parleremo oggi è stata pubblicata in prima pagina il giorno dopo l'avvenimento soltanto, parliamo di lunedì scorso, la pubblicazione dell'avvenimento di domenica, soltanto in prima pagina dal quotidiano Il Corriere della Sera che in taglio medio titolava Assalto nella Chiesa italiana, Istanbul, terrore e un morto. Turchia arrestati, due uomini, la rivendicazione dell'Isis. In prima pagina c'era una sorta di sintesi di questa notizia. Due uomini armati e mascherati hanno fatto irruzione in una chiesa cattolica italiana durante la messa domenicale e hanno colpito a morte un cittadino turco. Il commando è entrato in azione quando in Italia erano le 9.40 nella chiesa di Santa Maria a Sarier, a Istanbul. Gli uomini incappucciati avrebbero iniziato a seminare terrore sparando in aria, quindi avrebbero ucciso un fedele che spesso, a causa delle sue difficili condizioni economiche, proprio tra le panche di quella chiesa trovava riparo e conforto. Il quotidiano avvenire invece, che lunedì ovviamente come accade ogni settimana non è in edicola, ha parlato dell'argomento soltanto in prima pagina martedì con un titolo anche in questo caso in taglio medio, Turchia due arresti per l'attentato cattolici a rischio. E nell'incipit in prima pagina del quotidiano avvenire c'era anche qualche aggiornamento rispetto alla notizia data il giorno precedente dal Corriere della Sera. Torna l'incubo degli attentati in Turchia. Domenica in un attacco alla chiesa di Santa Maria a Istanbul un uomo di nazionalità turca è stato ucciso. Ecco, subito arrestati un ceceno e un tagico, mentre il Daesh ha rivendicato l'attacco. Fermati dalle forze dell'ordine altri 49 sospetti. 26 saranno interrogati per accertare i legami con il Daesh. Il vicario apostolico dell'Anatolia, Paolo Bizetti, ha dichiarato in un'intervista rilasciata da venire la tensione e l'humus per i violenti. Poi all'interno del quotidiano avvenire c'è un'intera pagina dedicata a questa notizia. Leggiamo soltanto qualche stralcio di questo articolo firmato da Marta Ottaviani. Turchia torna all'incubo attentati, questo è il titolo, a Istanbul dopo la paura. Ora è il momento della prudenza, quella della comunità cristiana che in poche ore è ripiombata in un incubo dopo mesi di relativa tranquillità. E quella delle autorità turche che si trovano davanti a un atto rivendicato dall'ISIS ma che ha ancora troppe zone d'ombra. A 24 ore dal brutale attacco nella chiesa gestita dai frati francescani sono state arrestate 51 persone, fra cui due presunti attentatori. Si tratterebbe di due uomini rispettivamente provenienti dalla Cecenia. Dunque con un passato russo è dal Tajikistan. È stato uno di loro, uno di loro due, ad aver sparato all'unica vittima dell'aggressione avvenuta domenica alle 11.40 ora di Istanbul durante la celebrazione della Santa Messa. La vittima è un cittadino turco, secondo alcuni con problemi mentali. Secondo altre ricostruzioni la vittima era un simpatizzante che si era avvicinato da poco alla chiesa cattolica. Ripetiamo l'attentato stato rivendicato dallo Stato islamico ma ci sono dei dubbi dei dubbi che vengono anche rilanciati dalla dichiarazione del sindaco di Sarier che ha rivelato che i due si sarebbero dati alla fuga dopo che una delle due pistole si è inceppata salvando, questo inceppamento avrebbe salvato i fedeli da una strage. Insomma ci sono tanti argomenti su cui riflettere ed è con noi in studio proprio per aiutarci a riflettere su quanto è accaduto e sulle prospettive che questa nuova recrudescenza di violenza in Turchia potrebbe aprire e con noi in studio Frappio Miurà che è consigliere generale dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini di cui vi traccio una breve biografia. È nato a Izmir, proprio in Turchia, il primo giugno del 1959. Ha professato temporaneamente i voti nell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini il 1 ottobre dell'81 confermandoli in perpetuo tre anni dopo, l'8 novembre dell'84. È stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1985 dopo aver conseguito la licenza in patristica a cui è seguito, dopo l'ordinazione sacerdotale, il dottorato in patrologia nel 1999. Tra i vari incarichi è stato ministro provinciale dal 2009 al 2012 della provincia francese dei Cappuccini e dal 2012 è consigliere generale e come tale è delegato del ministro generale per diverse fraternità, fra cui quella di Gerusalemme e anche quelle di San Giovanni Rotondo e di Pietrelcina. Infine, una chicca per i nostri telespettatori, potremmo dire che Frappio è un collega perché ha frequentato la scuola di giornalismo a Parigi dal 1985 al 1987 e poi ha diretto anche una rivista in Francia. Ben tornato fra noi perché qualcuno dei nostri telespettatori ti ha già visto in onda, soprattutto durante le celebrazioni delle messe. frappio, prima di tutto, come si può leggere questo nuovo atto di violenza nei confronti di una comunità cristiana, cattolica, visto che la Turchia da un bel po' non dava più di questi problemi? Sì, prima di tutto pace e bene a te e ai telespettatori. Guarda, leggendo, ascoltando quello che hai letto nei due giornali, penso che c'è come una incitazione alla paura, no? è un fatto drammatico quello che è capitato, ma questa insinuazione per dire attenzione forse inizia qualcosa di nuovo contro, è da verificare, penso che è un po' una incitazione alla paura. Io sono nato lì, ho vissuto lì, non è che abbiamo questa paura, questi attentati. Sono capitati alcuni, sto pensando alla morte di Don Santoro, di Luigi Padovese, ma in generale è un paese tranquillo, non è paragonabile con altri paesi, per esempio con quello che vediamo, leggiamo, del Pakistan o altre, c'è la libertà religiosa. Il problema è che siamo veramente un piccolo gregge, pochi cristiani e penso che, visto che la comunità è insignificante, non siamo neanche interessati per essere nel mirinio di qualcuno, perché insignificanti, pochi, pochi. Quindi a tuo giudizio, ovviamente un giudizio a caldo sui pochi elementi a disposizione potrebbe essere più il gesto di alcuni folli fanatici che un attentato nell'ambito di un piano prestabilito con dietro un'organizzazione. Quindi la pista dell'Isis, che viene messa in dubbio anche dai giornali, non è proprio così certamente suffragata da elementi concreti. Che ci siano dei membri dell'Isis che vogliono un po' sconvolgere, seminare la paura, il panico può capitare, può essere il caso, perché non è per caso che hanno arrestato una cinquantina di persone. Ci sono dunque questi movimenti fondamentalisti che cercano a seminare la paura, l'inquietudine. Al di là di questo, penso che non è necessario fare una grande drammatizzazione, perché la realtà è un po' diversa. No, è diversa. Ti dico, siamo così pochi che non suscitiamo neanche l'interesse per far parlare di noi. Ecco, qual è la fotografia della presenza dei cristiani e in particolare poi dei cattolici in Turchia? Quanto pochi siete? Perché insomma tu ti senti ancora comunque legati. Ma guarda, come cristiani, battezzati, forse non abbiamo delle cifre molto precise, ma forse diciamo 200 mila cristiani per tutto il paese. Su quanti milioni di abitanti? La popolazione supera gli 80 milioni, immagina 80 milioni e 200 mila pecore che appartengono a Gesù, con diverse confessioni, gli armeni, gli ortodossi, i siriaci, i caldei, i cattolici, i cattolici che sono divisi fra di loro con cattolici armeni, cattolici latini, eccetera. Un piccolo greggio, penso che la comunità la più importante attualmente sarebbe la comunità siriaca e diciamo che questi sono circa 40-30 mila persone. E questi cristiani dopo tutte le confessioni insieme sono piuttosto centrati nelle grandi città, per esempio Istanbul, Izmir e Antiochia. C'era una bella comunità cristiana in Antiochia fino al terremoto dell'anno scorso e adesso sono dispersi. Cerchiamo a radunare quelli che ci sono, ma sono andato ad Antiochia e non c'è più niente, tutto è distrutto. Dunque i cristiani, pochi cristiani che erano lì, sono partiti nelle grandi città per poter continuare a vivere, trovando un alloggio, un lavoro. E' veramente una piccola, povera chiesa, ma quando tu vedi la storia della chiesa, è lì che tutto è partito. Si può dire che se Gesù è nato in Palestina, il cristianesimo ha avuto come inizio, come culla, diciamo, questa zona lì, Antiochia per esempio, è lì che i cristiani hanno ricevuto per la prima volta il nome di cristiani. Basta leggere gli atti dei apostoli, Antiochia, Iconium che si chiama Conia, le sete chiese dell'Apocalisse, i concili, il credo che recitiamo ogni domenica si chiama il credo di Nicea Costantinopoli. Dunque il cristianismo è nato là, dopo le vicissitudini della storia fanno che la comunità si è ridotta, ridotta, ridotta a quello che è oggi. E torneremo a cercare di capire qual è la situazione dei cristiani e dei cattolici in Turchia. Tra qualche secondo una breve pausa pubblicitaria e poi avremo nuovamente con noi in studio Frappio Murat. A fra poco. Siamo tornati in studio con Frappio Murat, consigliere generale dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini che è originario della Turchia, con cui stiamo commentando non soltanto la notizia dell'assalto ad una chiesa di Istanbul avvenuto domenica scorsa, costato la vita ad un fedele, ma stiamo anche cercando di capire quanto questa vicenda possa rappresentare un sintomo di una possibile recrudescenza di violenza anticristiana. e questo pare non abbia basi per poter creare ulteriori timori. E quindi a questo punto stiamo mettendo a fuoco la presenza dei cristiani, pochi e ancora meno dei cattolici in Turchia. Ecco, ma voi come frati Cappuccini e più in generale anche come francescani, l'assalto è avvenuto in una chiesa amministrata dal punto di vista pastorale proprio dai francescani. Qual è la presenza cappuccina e più in generale francescana in Turchia? Allora, devo dire che se la chiesa oggi cattolica può essere presente, essere un segno che parla, un segno vivente, lo deve molto alla presenza dei religiosi, soprattutto gli ordini storici come i francescani, i domenicani. Il clero secolare è quasi inesistente. Dunque da secoli questa chiesa ha potuto vivere grazie alla presenza dei religiosi. Per quello che riguarda i Cappuccini, dall'inizio della riforma cappuccina, direi, hanno avuto questo interesse di stare presenti in questo Oriente. Nel 600 avevamo già un famoso missionargo che è diventato santo, Giuseppe da Leonessa, e dopo questa tradizione ha continuato sempre. Attualmente la nostra presenza è un po' ridotta, per i cappuccini voglio dire. Siamo più o meno 12 frati di diverse nazionalità. Ci sono dei italiani, polacchi, indiani e adesso due frati giovani del Pakistan. Ne abbiamo tre presenze, una a Istanbul, una a Efeso e una vicino ad Antiochia, a Mersin precisamente, al servizio di queste piccole minoranze. La presenza la più significativa, secondo me, è quella che abbiamo ad Efeso. I frati sono presenti a Efeso in un santuario dedicato alla Madonna, dove secondo la tradizione Maria Santissima avrebbe finito i suoi giorni lì, a Meriemana, a questo luogo molto umile e semplice, ma che attira tanti pellegrini, pellegrini cristiani ma anche musulmani, perché i musulmani hanno una devozione alla Madre di Dio. Nel Corano c'è anche un libro dedicato a Meriem, cioè alla Madonna, che è considerata anche come Vergine, ha concepito dallo Spirito Santo, dogma che alcuni cristiani fanno difficoltà a mettere, ma intanto i musulmani ci credono, vengono a pregare, accendono le candelle. Dunque è anche un luogo di incontro e di dialogo con tutti quelli che vengono lì. Questa per le nostre presenze. Le altre due presenze sono delle parocchie, se non fossero i capuccini penso che sarebbe difficile trovare degli animatori di queste comunità. Ma non ci sono frati turchi, frati cappuccini turchi in Turchia? Attualmente no, siamo due originali. In tutto l'ordine. In tutto l'ordine. E perché con questi piccoli nomi e le vocazioni non è che arrivano proporzionalmente, può sembrare, l'uno si trova a Gerusalemme e è diventato un grande, grande studioso, un professore della Bibbia. E io per motivi che hai anche evocato adesso sono qui. Forse un giorno ritornerò, ma per il momento no. Ah, non c'è ancora uno, scusa, un più giovane a Bologna che sta studiando ancora, un giovane, giovane frate. Con la prospettiva di tornare in Turchia? Sì, sì, sì. Domanda personale. Ti mancano i luoghi di origine, la famiglia, quella parte di famiglia che è rimasta in Turchia? Eh, guarda, io ho vissuto 35 anni in Francia. Sono partito giovane per diventare frate. Sì, alcune volte mancano, ma non è, diciamo, una cosa molto pesante. Sono diventato con il tempo un fratello di... mi trovo bene ovunque, ma sono contento di ritornare anche a casa. Il quotidiano avvenire nella pagina interna in cui parlava dell'attentato di domenica scorsa ha ricordato anche che il prossimo 5 febbraio a Roma si svolgerà una messa in suffragio di Don Andrea Santoro perché domenica prossima, 5 febbraio, sarà il diciottesimo anniversario del martirio di Don Andrea Santoro che proprio mentre pregava, mentre leggeva la Bibbia, aveva la Bibbia in mano, fu ucciso il 5 febbraio del 2006 a Trabzon e questa messa, domenica prossima, verrà presieduta dall'arcivescovo di Smirne, Martin Kmetek, presidente della conferenza episcopale turca e insieme a lui concelebreranno tutti i vescovi turchi che sono a Roma per la visita dell'imina apostolorum da Papa Francesco e questa messa verrà celebrata nella parrocchia dei Santi Fabiano e Venanzio che è stata l'ultima in cui Don Andrea ha svolto il ministero come parroco prima poi di diventare sacerdote fideidonum in Turchia. Ecco, tu hai conosciuto Don Andrea o ne hai sentito parlare? Non l'ho conosciuto personalmente Don Andrea, ho sentito parlare, ho letto i suoi scritti e ogni volta che mi capita di leggere qualcosa di quello che ha scritto lui mi impressiona. era veramente una santa persona piena della parola di Dio, dello spirito cristiano, missionario una santa persona, una morte brutale e ingiusta. E invece nell'altro articolo che è un'intervista a Monsignor Bizzetti, vicario apostolico dell'Anatolia, sempre pubblicata da Avvenire, oltre a Don Andrea si ricorda anche Monsignor Luigi Padovese, con fratello Cappuccino, prima di diventare appunto vescovo, anche lui assassinato in Turchia, anche qui chissà mai se un giorno si capirà il vero motivo per cui è stato ucciso, peraltro da una persona che era al suo servizio e quindi è una cosa ancora più misteriosa. Ecco, Monsignor Bizzetti dice a proposito di questi due martiri, penso che il messaggio di Don Andrea, di Monsignor Padovese, che amavano la Turchia, di tutti noi che amiamo questo paese sia sempre lo stesso. Noi siamo a favore di una società, ecco stiamo vedendo una foto anche molto bella di Monsignor Padovese, noi siamo a favore di una società dove vi sia vera libertà, rispetto per le convinzioni di ciascuno. Padovese, di Padovese hai un ricordo maggiore? Sì, l'ho conosciuto abbastanza perché era professore al Collegio Internazionale a Roma e ogni volta che andavo lì giovane ne parlavamo della Turchia, dopo è diventato vescovo, un uomo buono, la bontà e l'ingenuità del Vangelo proprio, una morte drammatica, l'ha ucciso il suo autista, un ragazzo di vent'anni, che cosa gli è venuto o chi gli ha messo delle idee e per fare questo gesto non so dire, ma Padovese come Don Santoro hanno amato la Turchia, la chiesa turca e penso che la loro presenza in cielo ci aiuta ancora a continuare questo cammino. Sono testimoni, testimoni di generosità, di bontà, di fede in Gesù Cristo, di fede nel Vangelo, testimoni che in greco si dice martiri. Quindi alla fine di questa nostra chiacchierata possiamo dire che non c'è da temere per la tranquillità, per l'incolumità dei cristiani in Turchia. Certo, la prudenza ci deve sempre essere, perché i folli sono sempre con la mano potenzialmente armata, ma non c'è odio nei confronti dei cristiani. In questo momento con quello che conosco io direi di no. Vedi per esempio, ho vissuto tanti anni in Francia, quante chiese sono stati attaccati, quanti cristiani durante le celebrazioni sono stati uccisi. Dunque non possiamo partire di questo evento per creare panico. E dopo il governo ha avuto anche delle parole molto forti dicendo noi ci teniamo a questa pluriformità dei cristiani, alla diversità delle chiese, delle comunità. Ho letto anche il messaggio del patriarca Bartolomeo, che è un po' la figura emblematica di questa chiesa, che diceva anche la stessa cosa più o meno, che dobbiamo aver fiducia, no, sperare che non sia una cosa che dà un inizio a qualcosa di terribile. Nel resto anche l'incendio di Notre Dame, a quanto pare, si è rivelato un episodio isolato, un gesto di follia. Diciamo che ogni tanto in qualunque parte del mondo qualche rigurgito anticristiano o comunque che cerca di mettere gli uni contro gli altri in nome della fede che invece costruisce dei ponti di avvicinamento e di amore. Ma che ci sia un'area, un clima anticristiano nel mondo è vero, dappertutto. Ma questo è già nel Vangelo, no? Che non saremo mai tranquilli a causa del Vangelo. E noi ci auguriamo davvero che non ci siano altri gesti di cui parlare. Speriamo e preghiamo, sì. E ci auguriamo davvero che il sangue dei martiri diventi fonte di una riflessione e di un'era di pace. Potrebbe essere un utopia, ma noi dobbiamo sempre sperare. Grazie a Fra Pio Murat per averci aiutato a leggere quello che è avvenuto domenica scorsa in Turchia. Grazie anche a voi, amici telespettatori, per averci seguito anche oggi. Grazie a tutti.